ringrazio il signor ferruzzo da napoli che ha vinto il concorso mi ha portato una una macchina 4x4 sono molto contento grazie ecco a voi la 4x4 guardatela era proprio quella che desideravo e quindi grazie grazie lui ha vinto il bicchiere di bianco al prossimo concorso regalatemi un trattore grazie 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 grazie